Al diciannovesimo un'entrata bruttissima del cileno Maripan su Turam che è rimasto dolorante a terra all'inizio cartellino giallo per Marcenaro che viene richiamato al Varda Abisso rivede l'intervento Marcenaro e cambia idea perché il cartellino giallo diventa rosso rivedendolo in effetti è proprio brutto l'intervento di Maripan perché va sulla caviglia piede a martello e ha rischiato molto Turam di avere un brutto infortunio qua Gli va solo bene che il piede non è piantato perché se rimane piantato gli spezza Si piega proprio lì la caviglia Avete visto il movimento della caviglia? Maripan per giustificarsi dall'inizio dice ma è il primo è il primo Questa è la giustificazione come abbiamo capito essere una sciocchezza da parte dei giocatori Sarà anche il primo ma se fai l'entrata così sarà anche il primo ma ti prendi il rosso diretto e te ne vai fuori Ma poi c'è l'utilità di fare un fallo del gennaio Che senso ha? Lascialo andare E ora il Torino che era già tutto chiuso sarà ancora più chiuso perché in dieci che cosa vuoi fare? Pensa che bella partita, ti tocca commentare Non credo che sarà bella perché Marino gioca a 70 minuti più recupero in inferiorità A naso una delle due punte esce e mette dentro un altro centrocampista Potrebbe entrare Masina per ricompletare la difesa a tre Potrebbe, sì esatto O esce Zappato o esce Adam Secondo me è Adams perché non penso che rinuncia Zappata Anche come tenuta fisica dei 90 minuti teoricamente Poi soprattutto anche per il ruolo Zappata Comunque un minimo di riferimento là davanti Te lo può fare Credo che Adams a breve verrà richiamato Perché non penso che non vorresti così Scusa Francesco per Di Marco Che cross a Turam non ci arriva Ci arriva Frattesi ma la palla esce Di un niente ma esce Chiede il calcio d'angolo Frattesi perché credo ci sia stata in effetti una deviazione Turam non ci è arrivato Non c'era il difensore sul primo palo Quindi la palla è addirittura passata sul secondo giocatore Poi Frattesi invece è stato Si è stato contratto bene dal difensore del Torino Mi sembra angolo netto Vediamo se però non viene dato Perché è arrivato di gran forza No 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 è rimessa Mi sembrava angolo netto Allora partita che adesso comunque è cambiata Perché inevitabilmente dopo 20 minuti Il Toro resta in 10 Per la sciocchezza colossale di Maripan Che va a prendersi un rosso diretto Sacro santo ribadiamolo Perché poi vedendo anche il replay Assolutamente legittima la decisione del VAR Di richiamare l'arbitro Quindi assolutamente corretta la decisione È chiaro che adesso 10 contro 11 per 70 minuti Il Toro dovrà inevitabilmente cambiare Già non era stato un approccio particolarmente Coraggioso Quello del Toro È evidente che adesso Però Francesco abbiamo già il primo voto della partita Maripan in Pagela prende due Due Assolutamente sì Per fare un fallo di quel genere Tra l'altro l'intervallo Up and down dell'Inter e del Toro Quindi Mariana anche i tuoi tre Poi vogliamo Un due Quello di Maripan Non classificabile direttamente Penso possiamo mettere Maripan due tra i down Lo possiamo già Attenzione all'Inter Darmiane c'è la Noblu No ma io infatti avrei già messo Non classificabile LC proprio Il due rende più l'idea Sì rende l'idea perché non puoi fare Un fallo di quella gravità E ma questa è già l'esperienza Ma ti manca l'esperienza Comunque per il momento non sta facendo il cambio Sta giocando con un 4-3-2 Con i quattro sì Perché Pedersen e Lazaro sono arretrati sulla linea di Saul Koko e Valuchievicz Questo è il modulo che sto vedendo Che tra l'altro stava facendo devo dire anche prima Perché uno dei tre centrali rompeva la linea Era Valuchievicz Mentre Saul Koko e proprio Maripan facevano i due centrali Attenzione all'Inter Ora con Darmiane sul fondo Saul Koko va a chiudere molto bene Questo è stato un buon acquisto Almeno per il rendimento di questo primo mese I primi due mesi di stagione Saul Koko sta facendo molto bene Poi ha fatto anche un bellissimo gol con la Lazio E quindi ancora bene Il Torino va a pescare sempre difensori forti Scurs che ora è fuori per infortunio Buongiorno venduto a 35 Saul Koko E bravo Magnati a prendere difensori Ecco, sui difensori ci vede lungo Andiamo a vedere questo calcio Bremer ovviamente 50 milioni alla Juve Andiamo a vedere questo calcio d'angolo Cianoglu Palla in mezzo all'aria Respinge ancora Ginetis Altro gigante Qui tanti giocatori Che fanno valere la loro stazza Nel Torino Colpi di testa Anche in aria di rigore Finora l'Inter non l'ha presa Di testa Vediamo ora Bastoni Cerca di scardinare il muro Granata per vie laterali L'Inter sulla sinistra Per far uscire qualche uomo Dal bunker centrale Ma non ci pensano i giocatori del Torino Che fanno mucchio al centro E allora il cross da sinistra Bissec prova a fare la sponda Va da Cianoglu Ce l'ha sul sinistro Ci ripensa È troppo lontano Lì è troppe maglie Granata davanti Allora Bastoni Che crossa Bene Su Turam Il colpo di testa È gol Di Marcus Turam Quinto gol In campionato La mette di testa Bellissimo questo colpo di testa Come a Genoa La piazza Qui veramente si vede Ha cercato il palo lontano E lo colpisce Palo interno È gol Bellissimo cross di Bastoni È colpo di testa di Turam Capocannoniere di stagione dell'Inter Finora Cinque gol per lui Internazionale 1 Torino 0 Al venticinquesimo L'Inter fa la cosa più difficile Sbloccare la partita Perché il Torino è in dieci Turam aveva subito Il fallo dell'espulsione Turam ha portato l'Inter in vantaggio Eh sì Assolutamente sì Partita adesso Si mette decisamente in discesa Con l'Inter Avanti di un gol E avanti di un uomo Tutto assolutamente regolare Qui è Coco Ne abbiamo detto benissimo Ma lui e l'altro centrale Se lo perdono Nulla può Milinkovic e Savic Il cross di Bastoni Dalla sinistra Salta praticamente indisturbato Turam Talmente va in alto Che deve quasi abbassare la testa Palla che incoccia contro il palo E finisce dentro Per il vantaggio dell'Inter Cosa che permette i nerazzurri Di andare in solitaria Abbiamo visto la classifica Al secondo posto Alle spalle del Napoli Capolista E tale resterà ovviamente Da qui E per le prossime due settimane Della sosta L'Inter che scavalca l'Udinese Che peraltro oggi ha vinto 1-0 contro il Lecce Quindi continua L'eccellente campionato Da parte Dei Friulani Cara Marianna Partita che era già in salita In 10 contro 11 Adesso siete sotto anche di un gol Era già in salita Nell'11 contro 11 Figuriamoci infatti adesso Ma più che altro È stato sbagliato tantissimo Voi avete criticato L'approccio dell'Inter All'inizio È poco aggressivo Ma è stato sbagliato Anche quello del Toro Perché in realtà Quello che noi tifosi Siamo stati abituati Fino ad adesso E che anche se perdevi Tutto quanto Però avevi quasi sempre Soprattutto nel primo tempo La gestione della palla Quindi avevi maggior possesso palle Tutto quanto Facevi girare palla E non ti basavi Sulle ripartenze Che poi alla fine dei conti Ce n'è stata una Escludendo il tiro di Ricci Da fuori aria Quindi ripeto Già l'approccio comunque Iniziale è stato Completamente diverso È sbagliato Vai a San Siro Devi essere un pochino Più prudente Però anche a San Siro Con il Milan Sembrava già Usate ancora Inter in avanti Con Bissec Alza la testa Stava per darla a Darmian Che poteva crossare dal fondo Ma poi cambia i detti Torna indietro Intanto da bordo campo Il Torino stava per far entrare Masina Però forse adesso Vanoli comunicherà Dagli spalti Dalla tribuna Una decisione diversa Perché non c'è più niente Da difendere Il Torino è sotto Intanto c'è Adams Stava facendo l'esterno Ed era diventato quasi Un 4-4-1 Con solo Zapata davanti Vediamo se entra lo stesso Masina Oppure se cambia la decisione Godigno Ascoltando anche un po' Quelle che sono le comunicazioni Che sappiamo tutti In teoria non si possono fare Ma poi lo fanno tutti In qualche modo Si riesce a fare arrivare Quello che l'allenatore Squalificato vuole Inter che intanto Gira palla Sulla tre quarti Con Bastoni Che è l'elemento chiave Ancora di più adesso In superiorità numerica Lasciare sempre la difesa Per creare un po' A sinistra Un po' al centro Essere quell'elemento Che mette in crisi Un po' il piazzamento Della difesa Del Torino Ora Di Marco Ancora da sinistra Il cross Che attraversa tutta l'area piccola E due giocatori Due attaccanti Nel 9 Nel 10 Turam e Lautaro Arrivano in scivolata Bello il cross Quello che ha sopra scritto Solo la palla Dice mi devi buttare dentro Però è troppo lunga Per tutti e due Che partono in ritardo In scivolata E quindi nessuno dei due arriva Anzi il secondo era frattesi Lautaro arriva per terzo Dopo Se il Toro non mette dentro Un centrale Prende un imbarcato In questo momento Mi sembra che stia giocando Un po' come il gatto col topo L'Inter col Toro Nel senso che comunque Alcio d'angolo battuto corto Per Michi Tarjan Ancora palla a Cialanoglu Che aveva battuto l'angolo La rimette in mezzo E il colpo di testa Ancora Turam Il tiro di sinistro fuori Sull'esterno della rete Reclama anche qui Una deviazione Non è proprio bello Di collo pieno In diagonale Quindi la palla esce Sull'esterno Adesso l'Inter Non deve assolutamente Pensare Che sia tutto finito E deve andare a cercare Assolutamente subito Il raddoppio Per non dare Speranze al Torino Il tiro di Turam Era scivolato C'è una battosta dietro l'angolo Mi stai dando stasera No ho capito Ma è perché Facci piano Michele Un po' più piano Tranquillo Un po' più piano E la logica della partita C'è il Torino È logico ormai Ho già visto tutto La logica è già questa Mamma mia Che poi Ecco L'altra pecca del Toro Ma non è una cosa di quest'anno È proprio generale È il fatto che Anche se Tendenzialmente Vorresti sfruttare qualcosa Tipo una punizione Un corner Qualcosa del genere Nessuno Nessuno Forse Illich Che forse aveva segnato una volta L'ultimo gol su punizione Che ricordo È di Iaic Ma è no Siete ancora di Marco In area di rigore Per Duram Anticipato da Saul Coco Che la svirgola E la manda in calcio d'angolo Al di là di tutto Già con l'espulsione L'inerzia della partita è cambiata Espulsione più gol Sì E con un gol di scarto Hai un rischio Tu puoi avere sempre Speranza Però posso dire Che mi sembrava un po' tardiva La reazione della panchina Del Toro Cioè Espulso il giocatore Un altro centrale di centrocampo Lo metti dentro subito Va beh in mezzo La difesa del Torino Ancora la meglio di testa E ora Mkhitaryan però recupera il pallone L'Inter torna dietro Sì Una situazione di estrema difficoltà In questo momento per i Granata Ovviamente per Cioè Mi sono sembrati poco reattivi Cioè Nel lasciare La doppia punta Adams e Zapata Ma perché probabilmente Pensavano in un Però sta difendendo male il Toro Sì No 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 Ma sta difendendo male E difende pesa Il Toro ragazzi Si raggruppa dietro Il Toro da quando ha preso il gol Non sta più giocando Stanno facendo di quelle cose Ora c'è stato un cambio di gioco La palla su Di Marco Non era precisa Pedersen Un po' per la paura Insomma In fase difensiva La lascia andare in calcio d'angolo Con un colpo non buono Perché sta difendendo malissimo il Toro Però ragazzi Da questa mossa Che non ha fatto Tra l'altro Non cambiando subito Dire che se la voleva giocare No però Se ti metti a 4 Non si può fare Sì ma ti sei messo comunque a 4 Riadattando un attaccante come esterno Certo Cioè non è che dici Attenzione il tiro di Darmian Da fuori aria Sulla ribattuta Sul calcio d'angolo Il tiro che però è esterno E finisce sul fondo Mezz'ora di gioco 1-0 per l'Inter E più che altro L'assetto dietro Venendoti a mancare Un difensore centrale O comunque uno dei tre Secondo me Lo devi risistemare Va benissimo essere coraggiosi E tenere l'attaccante L'altro attaccante Che fa l'esterno Per pulgere Magari tocare con un 4-4-1 Togli una punta Adesso fa entrare Masina Ma che senso ha farlo entrare adesso? Cioè adesso vai a risistemare Ma sei sotto di un gol E hai giocato male Masina pronti via Prendi il rosso Lo butti dentro Sono 12 minuti Che il Toro Caldo non caldo Un po' di stretching Lo fa in campo Ma almeno vai a ripristinare Un minimo di assetto Adesso bisogna stare Non fai una mossa del genere Contro l'Inter Cioè giochi con una squadra Magari meno quotata L'Inter quando fiuta L'odore del sangue È cazzata Inter che peraltro Abbiamo detto Non aveva iniziato benissimo Il Toro Nella sua Non voglia di andarsela a giocare Fin dall'inizio Perché abbiamo visto Sempre un Toro Abbastanza remissivo Però stava tenendo Più o meno Poi vai tu a sapere Nel corso della partita Come si sviluppa Magari il Toro Prende coraggio Magari è chiaro Che se sei sotto di un gol Eccolo qua il cambio Adesso devi Esce c'è Adams Quindi diciamo Da esterno Non gli è piaciuto Il Torino Deve stare 3 3 dice 3 Proprio Massina Si ritorna a 3 Sì ma dico Voto 4 La panchina del Toro Perché non leggere Una mossa del genere 30 secondi Dopo aver preso il rosso E permettere all'Inter Di andare in vantaggio Ma può essere stata Secondo voi Perché aspettavano La comunicazione di Vanoli Per fare la sostituzione Però questa deve essere Una comunicazione Peggio ancora Cioè panchina Nel senso anche di Vanoli Cioè nel senso Boh Non lo so Cioè se il facente funziona In panchina Ti buttano fuori un centrale Mette un difensore subito Beh ma non è nelle condizioni Di poter avere una Di poter prendere una decisione Così immediata Sì ma va bene A me se non concesso questo Vanoli quanto tempo ci impiega Esatto Allora ragazzi Siccome è Svegliamo Svegliamo un arcano Attenzione Ci chiamano al telefono Sì no Quindi Un collegamento telefonico Sicuramente con uno dei 150 Che stanno in panchina Esatto Vede il rosso A Il rosso è stato al venticentrale Francesco il rosso è stato al ventesimo Il gol al venticinquesimo Cinque minuti Quindi voglio dire Poi c'è stato tutto il VAR Quindi se volevano La comunicazione Magari hanno provato a vedere Se 4-3-2 Poteva Lasciare le due punte Metterti a fare degli esperimenti Contro l'Inter a San Siro Restando in 10 Ma no ma più che altro Al ventesimo Con tutta la partita davanti Si è rimesso con la difesa a 3 Sempre con i 5 centrocampisti Adesso è 3-5-1 3-5-1 L'ha fatto proprio Massina 3-5-1 Però in quei 5 minuti Tu perdi completamente la bussola Prendi il gol E il Toro ha difeso malissimo Per 12 minuti Possesso palla 78-22% Impietoso E' veramente imbarazzante In 10 anche Adesso devi evitare incidenti Ma parlo di prima dell'espulsione C'è il Torino Infatti lo dicevo Che non mi piaceva il ritmo dell'Inter Però anche dall'altra parte Mi aspettavo un Torino Un po' più Intraprendente Ecco Un po' più coraggioso Evidentemente le due sconfitte Che prima ricordava Maria Anna perché quella in Coppa Italia Pure comunque E' una partita E quindi sono rimaste Un po' nella testa Dei giocatori Che hanno un po' di timore Però Michele Fino al ventesimo Il Toro Non ha rischiato nulla No capito Però è una partita passiva Stai in 10 uomini Dietro la linea Della palla Cerchi di otturare Il passaggio Non rischi E anzi L'unica occasione da gol E' stato il tiro Potente di Visto guarda come difende Quando la palla l'Inter Difende a 5 Vedi? 5-3-1 Non puoi fare diversamente I due esterni scendono Scendono le due esterne Gioi 4-100 Attenzione all'Inter Con Cerbi Ora ci prova lui Andare in avanti Da sinistra Il cross è buono Il colpo di testa E ancora il gol Di Marcus Turam Di testa Che quando segna Quest'anno Fa solo doppiette E quindi Ancora Marcus Turam Se i gol in campionato Ha sentito Retegui E vuole rispondere anche lui E riparte All'inseguimento Del titolo Da capo cannoniere Ma soprattutto Dal secondo gol all'Inter Che al 35esimo Mette in questo momento La partita al sicuro Perché con un uomo in più E due gol di vantaggio 35 minuti Internazionale 2 Torino 0 Doppietta di Marcus Turam Tutto facile per l'Inter Che non diciamo Che archivi la pratica Ma poco ci manca Perché insomma Toro ha un uomo in meno E dormiente in difesa Diciamo che vedere Delle rimontate Tipo quella della Juventus Dell'altra sera in 10 La vedo molto dura Per il Toro di oggi Ancora Cocco Diciamo di sì Ancora Samo Cocco Che non salta neanche Su Turam È strano però Ecco questo fa pensare Che se tu avessi avuto Magari Ancora buongiorno Probabilmente Almeno il primo gol Quindi Questo per tornare al discorso Dei tifosi Cosa dirà Uh attenzione al Torino Con Zapata Che sono Perché sono Per il tiro di Zapata Il gol del Torino Mamma mia Il gol del Torino 2 a 1 Vedete che le partite Il calcio è strano Zappata subito Va in gol Distrazione In difesa dell'Inter Che si fa Infilare Da una squadra in 10 In modo incredibile Molto bravo Zapata Anche nell'esecuzione Devo dire Sia a prendere posizione Col corpo E sia poi a calciare Sotto l'incrocio opposto Voglio rivedere però Come è arrivato Questo filtrante Troppo facilmente In aria di rigore Adesso ce lo faranno rivedere Stanno discutendo Marcenaro Zapata Non si sa perché Il gol è validissimo Il gol è valido Quale? Quando l'arbitro Aveva fiscato Voglio vedere un attimino Vediamo Allora la palla è lunga Cerbi di testa cade Poi Bissek Zapata è bravo a recuperarla Poi Bissek Si fa risucchiare in avanti E è un po' Come Udine E poi alle spalle Non c'è nessuno Non c'è nessuno E' stato bravo Zapata A fare questa spalle Però è Bissek Che lascia la sua posizione C'era questo difetto Di farsi risucchiare Sempre in avanti Perdi il rimpallo E qua Bissek Fa un buco Darmiano Non riesce a chiudere Poi è stato bravo Zapata A difendere col corpo La posizione Prendere un gol così Di 2-1 Contro 10 Ma non resiste Non c'è scusa È un problema Problema grosso Certo 10 che No ma di concentrazione Sulla stessa gara Di questa sera Tutte le partite così Le sta giocando l'Inter Perché Si sembra un po' Il copione dell'Udinese È brava Allora 38 di gioco In due minuti Il raddoppio dell'Inter Ma anche il gol del Toro 2-1 Partita viva Nonostante il Toro Sia in 10 uomini Torino che va negli spogliatoi Con un minimo di speranza Anche se ovviamente L'inerzia è tutta Dalla parte dell'Inter Per forza di cose In vantaggio di uomini E di gol Facciamo subito Gli up and down Prima l'Inter E poi il Toro Partiamo Michele Con l'Inter Si allora è inevitabile Allora è inevitabile Mettere Turam Come primo up Perché sta decidendo La partita Anche involontariamente Sulle espulsioni Maripan Però entra anche lì Quindi decisivo Due gol Anche davvero attaccante Quello che gli abbiamo Sempre chiesto l'anno scorso Quest'anno sta facendo Questo step E quindi un bell'otto Anche se siamo solo Al primo tempo Non glielo toglie nessuno Otto per Marcus Turam Poi mi sono piaciuti Due abituè Degli up di quest'anno C'è la fascia di sinistra Neanche A parlo apposta Sempre loro E metto quindi Sia Bastoni Che Di Marco Allora metto Tutti e due con un set Perché alla fine Bastoni ha fatto l'assist Di Marco Ha alimentato l'azione Sempre ha provato Quello che prova di più Sta benissimo Dall'inizio della stagione Quindi sette a tutti e due Otto Turam Bastoni sette Di Marco sette Per me sono questi tre I migliori Poi tra i peggiori Allora i peggiori Purtroppo ci sono oggi E c'è Bissec Perché fa questo buco Sul gol E quindi gli do un 5 Perché è un po' recidivo Deve stare più attento dietro Più attento Soprattutto una Questione di posizione Tattica E poi Lautaro Avete ragione Gli do 5 e mezzo Perché è stato anonimo 5 e mezzo è tanto Troppo Troppo Come primo tempo Nel senso che poi vediamo Non ha visto boccia Il voto secondo me è 5 più È Lautaro No se gli metti a Bissec 5 Allora devo mettere a Bissec 4 e a Lautaro 5 per fare la proporzione Bissec Ha sbagliato Lautaro non ha sbagliato È stato marcato Da 2 o 3 Però diciamo Per il malo assoluto Del giocatore Non ha fatto niente Anonimo Non ha fatto nulla Io credo che possa Essere E poi come Sono fatti anche Per essere commentati Come terzo Non c'è un terzo Perché fra te Si ha buona attitudine Darmian No Mkhitary Ho capito Mkhitaryan ha giocato Dai Ha corso ovunque Io credo che C'è sempre lui nelle azioni Non mi aspettavo di più Da Mkhitaryan A me non è piaciuto per niente Mi è piaciuto Resto su Lautaro E Bissec Poi 5 5 e mezzo No Bissec 5 netto Tutto pieno Perché è recidivo Lautaro ci può stare anche il 5 Scusa se è recidivo Gli dai 4 4 e mezzo Scusami 4 Adesso non è che si è fatto l'autogol Ha sbagliato un movimento Non ha fatto disastri da 4 Ha sbagliato un movimento Però siccome è un movimento Che deve avere presente Perché è sempre la stessa cosa Cosa ha fatto con il Genoa Con il Genoa è un'altra storia Lì sbaglia a saltare per stanchezza Io parlo dell'Udinese Evidentemente stai accumulando Stai certificando Altre errori Potete contestare Proprio analizzare il primo tempo di oggi ragazzi I voti vanno fatti per la partita Che sta facendo oggi l'Inter Quindi primo tempo C'è un voto Punto Ma sei d'accordo che comunque Se sei recidivo Vuol dire che Mezzo punto in meno Assolutamente Non è la prima volta 5 e mezzo 5 e mezzo o 5 Io 4 proprio 4 Lautaro Addirittura Scusa Parlo del primo tempo Non ha toccato una palla Perché devo dargli 5 Scusa Poi se vogliamo dire Lautaro Capocannoniere l'anno scorso Diciamolo Ma il primo tempo A me non è piaciuto Per me da 4 Punto Per me Secondo me è pesantemente Insufficiente Lautaro Io sono d'accordo Che è insufficiente Però Se il Torino È tutto dietro E non crea davanti È perché qualcuno Devono marcare Cioè non è che C'è il nulla In aria di rigore Sì però per dire A parità di marcatura Turam ha fatto Strasfraceli Infatti anch'io Da 8 e 5 e mezzo Cioè stiamo parlando Di 3 voti di differenza Tra i due Turam è riuscito A smarcarsi meglio Soprattutto nelle palle attive Ma anche a suggerire A suggerire A venire incontro A prendere il pallone Lui proprio Lautaro non l'abbiamo mai visto Lui è bloccato Mai visto Sì sì L'autaro è ingolfato Ma si ingolfa da solo Tra l'altro Nelle ultime partite Era in netta ripresa Perché ha fatto Due gol Il gol con la stella rossa Da subentrata Anche la condizione fisica Sembrava in netto miglioramento Invece oggi Oggi non è che ha fatto male Non ha proprio fatto È stato quasi fantasma Poco 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 Quattro o quattro e mezzo Però sto dicendo Comunque gli uomini Se li porta sempre Non è che Non c'è nessuno Si diluide Beh magari su un vincere Quello Fai l'attaccante Devi essere marcatato Adesso entra E fa due gol Siamo 0-0 0-2 L'attaccante Se sto vincendo la partita Almeno quello è il mio metro Se sto vincendo la partita Vuol dire che davanti Anche con l'Udinese forse Nel primo tempo Non aveva giocato Nel primo tempo Dell'Udinese Ha fatto il gol Allo scadere Sì però non aveva giocato Così bene Poi nella ripresa Dopo il gol Dopo il gol Poi nel secondo tempo Ha fatto quel bel gol È utile che metti le toppe Quando ci sono le falle Non bisogna mettere le toppe Mi chiede Nel senso che Sono grandi giocatori Che per un tempo Non meritano La sufficienza Anzi meritano Gravi insufficienze Ma beh comunque Questi sono Non civili No Volevo chiedere a Michele A tutti voi Frattesi come lo valutate In questo primo tempo A me non è dispiaciuto Perché è andato tante volte Più di sufficiente Sì sì Un 6 e mezzo Io i tre centrocampisti Li ho visti sul 6 e mezzo Perché anche Michele Non era d'accordo Thomas Però l'ho visto In confronto All'inizio del campionato Sono tre partite Che lo vedo continuo Nell'andare A proporsi È andato anche Poi a grande forza C'è sempre Dove si svolge l'azione Anche Frattesi Mi è parso molto Dinamico A recuperare palla Subire falli Secondo me ha fatto Un primo tempo Da 6 Secondo me da 5 e mezzo Non l'ho visto Brillantissimo La sufficienza Per quello che ve lo chiedevo È lui che tiene La balacca insieme Non mi sembra Che abbia fatto Un primo tempo Se vedete Se Michitarian Va a corrente alternata Ragazzi però Sono anche compiti diversi Frattesi È il compito Di andare a tagliare In mezzo all'aria Quando arrivano i cross Lautaro per esempio In un cross Era in ritardo C'erano Turam e Frattesi Frattesi c'è sempre Quando ci sono gli inserimenti La può prendere Ti possono anticipare Però è uno che devi seguire Io ho detto Che secondo me Ha fatto un primo tempo Sufficiente Andiamo alle dolenti note Cioè in questo caso Al toro Cara Cara Mariana Grazie Gli up and down tuoi Tre che salgono E tre che scendono Del tuo tour Di questo primo tempo Ce lo dico subito Allora Nei pochi up No vabbè scherzo Ne ho trovati tre comunque Mettiamo Otto Zapata Perché comunque Non tanto per il valore del gol Quanto per l'iniziativa Individuale La leadership di squadra Esatto Sì assolutamente Quindi Otto Zapata Evita il naufragio Sì esattamente Esatto Poi Sette Ricci Al di là del Del tiro da fuori aria Bello Comunque Ha fatto una Gestione abbastanza Discreta Esatto E poi Sì E poi darei Un 6 A Milinkovic Savic È vero che ha preso I due Ha preso i due gol Esatto Però ho capito Ha ragione Prende due gol Prende due gol Però Esatto Ne salva su due situazioni Anche sei e mezzo Quindi Mi sentirei di dare questo Anche sei e mezzo Perché ha fatto un paio di parati Il primo dei down L'abbiamo già detto Allora Ovviamente Maripanna Maripanna Due Mettiamo il due E non glielo toglie nessuno E poi io metterei Coco Quattro Concordo Ci sta Mi sembra ripare Zazzaroni In questo momento Potete trovare qualcosa di più Coco Quattro E poi metterei Godinio Barra Vanoli Con Quattro Quattro Tre Diciamo panchina toro Inteso come Come staff tecnico Che prende un quattro Per la mancata Per la non gestione Esatto La scarsissima reattività Nel momento Dell'espulsione Veramente Bravissima Si è stata impeccabile Su questi Open down Devo dire la verità Beh Guardato bene la partita Sei d'accordo con lui Un suggerimento L'ho dato già Al ventesimo Del primo tempo Grazie Diciamo che Ma non per altro Non per il giocatore in sé Perché è inevitabile Che nel racconto Di questo primo tempo E Non lo so Se sarà della partita Non lo so Di questo primo tempo C'è un primo tempo In cui il toro è in 11 E il primo tempo In cui il toro Da 11 diventa 10 Perché Fa questo intervento Sciagurato Inutile Scriteriato Pericoloso Grave Che legittimo E pericolosissimo Perché rischia di fare molto Ma Cartellino rosso Totale Totale Senza alcun dubbio Non l'abbiamo visto Persino in presa diretta Ma è bastato Mezzo replay Per capire la gravità Dell'intervento Che giustifica Un rosso Assolutamente sacrosanto Che inevitabilmente Cambia Furio l'inerzia Della partita Perché poi La panchina del toro Regisce male Nel senso che Non è reattiva Lascia Le linee più o meno uguali Con Adams È riadattato A laterale L'Inter Passa in vantaggio E l'affettata è fatta Il problema è che L'Inter Nonostante i due gol Di vantaggio Non riesce a Poteva anche essere Il terzo gol Però non si può Prendere un gol così Vediamo se carica Di nuovo il destro No Va in verticale Bella questa idea Mkhitaryan Poi ancora Mkhitaryan Respinta della difesa Turam Nello strettissimo Non c'è uno spiraglio Lì Infatti il Torino Recupera palla Poi però sbaglia Dandola all'indietro Qua Lautari scivolata Recupera palla Poi in dribbling Bello questo movimento Del capitano Che fa una delle prime cose Buone della partita Poi allarga sulla sinistra Pedersen Iscivolata Interrompe l'azione Lancia anche Zapata Che va con grande coraggio A affrontare Ora Cervi Circondato da due Che gliela tolgono Arriva molto bene Bastoni a raddoppiare Il suo lombiano Ma sembra che siano Ancora 11 contro 11 Sì è vero Ma sono da 11 contro È così Sembra che siano Ancora 11 Il Torino è tutto dietro Sembra che siano Ancora 11 contro 11 A me non sembra Perché il Torino è tutto dietro Cioè ci deve essere Bastoni il cross Scusami Il colpo di testa Del Toro Respinta Ancora Turam E la palla Finisce in gol No Sì Gol Di Marcus È la prima tripletta Per lui Credo la prima tripletta Marcus Turam Marcus Turam Marcus Turam A ganciare Tevi A sette gol Lautaro Stavolta l'ha messa La testa La respinta Di Milinkovic Savic Che si dispera Perché non è riuscito A trattenere questo pallone C'erano tre giocatori Dell'Inter Contro nessuno E uno dei tre Era Turam Che non è che ha tirato Proprio forte È riuscito a calciare Palla che rimbalza Prima a terra E poi finisce Nel sacco Al sessantesimo Internazionale tre Torino uno La rivediamo Bastoni Il colpo di testa Di Lautaro Palla che resta lì Sulla respinta Di Milinkovic Sì sì Qui c'è Tutto sulla coscienza Di Milinkovic Che non attiene Il pallone Non si capisce nemmeno Cosa volesse fare È abbastanza comico L'intervento del portiere Doppio comico Del Toro Che poi anche sulla respinta Di Turam Molto fortunato In questo caso Turam A ciabattarla un po' Buttarla alle spalle Di Milinkovic Goffo Il portiere del Toro Che regala La terza rete All'Inter Questa sì Che forse chiude davvero La pratica Ce l'aveva nemmeno male Infatti non si capisce Perché centra Allora Il colpo di testa È forte Ma lui ce l'ha Centrale L'ultimo Sì però Tu la metti nel mezzo Il colpo di testa Era avvicinato È forte Lì ha respinto Come meglio ha potuto Allora terzo gol Dell'Inter 3-1 Tripletta di Marcus Turame Eroico Questa sera a San Siro Verso la linea laterale Zapata ha di fronte Un avversario Cerca di controllare Il pallone Con l'interno E il tacco Sinistro Gli va via La caviglia E la cosa preoccupante È la situazione Innaturale Del ginocchio Speriamo non sia così Però Potrebbe essere Un infortunio grave Speriamo non sia così Però oggettivamente La dinamica Dell'incidente La sensazione e la dinamica Ci dicono Ragazzi si è fatto malissimo Si è fatto male Esce con le mani in testa Applauso di tutto lo stadio Per un giocatore Che non meritava Questo infortunio oggi Per la prestazione fatta Ma al di là di quello Un pallone Che se vogliamo Non aveva alcun peso Più per la partita Però lui da generoso Va su questo pallone E si fa male da solo E solitamente Quando un calciatore Si fa male da solo Scatta l'allarme No ma poi tra l'altro Stiamo vedendo Proprio la gestualità Del giocatore stesso Per come sta uscendo Mani sul volto Mani sul volto Lui tra l'altro Conosce già Quel tipo di infortunio Perché in carriera Ha avuto già Dei problemi seri Speriamo non sia il ginocchio Però dalla dinamica Io ho tanta paura Che sia così Brutto colpo Bruttissimo colpo Per il Torino Perché al di là Della partita in sé Che ormai è andata Ma insomma La prospettiva Del campionato Perché abbiamo visto Bremer su tutti Stagione finita Naturalmente Non ci auguriamo Che sia una cosa del genere La sensazione La dinamica Ci dice che purtroppo L'infortunio Non sembra leggero Ecco Non sembra leggero E il ginocchio Coinvolto Il sinistro Ha fatto questa torsione Assolutamente naturale E purtroppo Con quel Po' di esperienze Che stiamo avendo Specialmente ultimamente Stiamo vedendo Che Insomma Il rischio è quello Però Incrociamo le dita E facciamo un in bocca al lupo A Zapata Però il Toro Non sia così Però la dinamica Pericolosamente Ora Zelischi Che in scivolata Chiude questa manovra Del Torino Che ha sostituito Ancora due giocatori Attenzione perché Ancora Torino in avanti Calcio di rigore Incredibile Calcio di rigore Per il Torino Che in dieci Può ancora Ritornare in partita Con Masina Che penetra In aria di rigore I due cambi del Torino Caramò per Zapata E Blasic per Ricci A Cerbia Spazzato di testa Stava uscendo Dall'area L'Inter Ma poi Masina Va a impattare Con Cialanoglu Che si fa anche male In questo impatto Ma la palla La prende Masina E Cialanoglu Prende il piede Di Masina Quindi rigore E rigore Rigore è netto Ma si è fatto male Anche Cialanoglu Perché va a calciare E si è fatto La pianta del piede Quindi con il collo Di Cialanoglu Sui tacchetti di Masina Quindi dolorosissimo Per Cialanoglu Che infatti Un po' dolorante Lo è Ma rigore assolutamente Ineccepibile Incredibile ragazzi Incredibile partita Fai un intervento rischioso Rigore è nettissimo E' un Inter Che non può piacere Per la cura dei dettagli Non mi piace Non c'è cura dei dettagli E' entrato De Vrai Al posto di Bastoni E' quindi Cambiato ancora L'assetto difensivo Perché era uscito Bissek Pavar Nel secondo tempo Ma adesso vediamo Questo calcio di rigore E Vlasic Vlasic Ne è entrato Contro Sommer Ottantaseiesimo Sommer che prova A ipnotizzare Il giocatore croato Parte Vlasic Il tiro Il gol Nell'angolino Si dispera Sommer Perché c'era quasi Arrivato alla sua sinistra E invece la palla Si insacca Però posso dire una cosa Scusa Michele Però ha segnato appunto Questo ti fa ancora più Arrabbiare Perché dici ma perché Contro l'Inter Tu non metti Vlasic è titolare Illic è titolare Ma soprattutto perché metti Maripan E' quello il problema Perché metti Maripan Scusa Michele La palla arriva a lui La notizia La notizia in questo momento E' che l'Inter prende Un'altra volta altri due gol Soprattutto che la partita è aperta Francesco Ora l'Inter prova ad andare in avanti Contaremi Di Marco Di Marco Palla su Saul Coco Che respinge Si fa anche male Perché gli va il pallone Nei parti basse E ora si accascia 87 minuti 3 Ancora Incredibile Come le partite Possano veramente Non finire 11 contro 10 11 contro 10 11 contro 10 E non possono finire Certo che se non le fai finire No capito Però se vai a vedere Furio le statistiche Ti dico Sono 25 tiri a 7 Possesso palla 80 a 20 Carci Che sembra 11 contro 11 Io ti dico Che magari se il Torino Era 11 contro 11 Stavano facendo 2 a 2 Stava vincendo il Torino Ma 11 contro 10 E' una partita Che sembrava Che c'era l'inferiorità In numerica 6 a 3 a 2 6 a 3 a 2 Non è che sei 10 a 0 Non contare Non contare Calci d'angolo Se su calcio d'angolo Non fai no Non sembrava Che ci fosse l'inferiorità Attenzione Ancora calcio d'angolo Palla per Frattesi Che però sparacchia alto Non so se è stato Frattesi Proprio lui Frattesi Palla alta E ora Sai Ti subentra anche un po' il timore Perché mancano due minuti Se in superiore Ma io non è che ti parlo tanto Ma non ci siamo capiti Io sto dicendo Che non sembrava Una partita 11 contro 11 Se no non c'era motivo Per il Torino Mentre perdi Di stare tutti dietro Sì Però poi Il risultato è quello Che fa conto Ho capito Il risultato per ora È 3 a 2 Sai qual è la colpa maggiore In questa partita Poi l'Inter la porterà a casa E su 3 a 1 Adesso vediamo prima Questi minuti Poi facciamo i commenti Perché se no Qua le partite Possono ancora subire Dei cambi di volto Te lo dico tra poco Tra 2 minuti Perché la partita In questo momento È apertissima Come risultato E poi il Torino Comunque a questi giocatori Come Caramò e Vlasic Che l'intervento e Mariana Prima diceva Vlasic Ma io dico pure Caramò Sono giocatori Che la giocata Te la possono inventare Caramò è disordinato Sì è disordinato Però crea scompiglio Caramò è proprio Si intoppa da solo Nel pallone E l'abbiamo visto La scorsa partita Con la Razio Però da un minimo di guizzo Quello che mancava Al Toro Fino adesso Possiamo parlare Fino a domani mattina Quello che volete Ma in 10 Non puoi prendere due gol A San Siro Punto 80% 200% di pala Quello che volete Ma tu non puoi prendere Due gol Punto E basta Questo è un dato di fatto E l'Inter quest'anno Ha una difesa L'Inter è una difesa E quando dico Non è l'Inter dell'anno scorso Non è l'Inter dell'anno scorso Fino adesso È così È un Inter molle È una squadra normalissima Allora Michele Facciamo finire la partita A certi sta giocando a sinistra Con De Vrij al centro Questo è il cambiamento classico Quando entra De Vrij Al posto di bastoni Ora Inter Che ovviamente Deve tenere la palla Non andare a forzare niente Perché ormai Per quello che manca Attenzione Dunfris Che viene atterrato Quindi ci sarà una punizione per l'Inter Siamo ovviamente Lontanissimi Ovviamente Siamo lontanissimi dalla porta Saul Coco Veramente stasera In guardarmi Non è indovinata una Abbassiamo ancora il voto Del primo tempo Io Arriverai anche a tre No no a tre va bene Di Coco Sì su Coco Prima era un quattro Sì sui due gol I primi due gol Ha avuto insomma due indecisioni Abbastanza importanti Sei minuti Sei minuti di recupero Che partono in questo momento Quindi vediamoci questo recupero Che all'improvviso È diventato interessante Per la partita Perché tre a uno 11 contro 10 È una cosa Tre a due Sai Può succedere di tutto Perché Il calcio è così Basta un episodio E non doveva tenerla L'Inter aperta Come diceva adesso Thomas Attenzione ora Inter che recupera palla La spazza anche in avanti Vediamo se Taremi riesce a conquistare Questo duello A vincere questo duello Con Saul Coco Ci prova Poi arriva Lautaro A sostegno Lautaro che si è spento Pure lui Attenzione al Torino Che ora non ha più niente da perdere Vai in avanti Ma sbaglia tutto In modo abbastanza incredibile Ma non mi rendete conto Ma questi giocano in Serie A Ma mi rendete conto Ha tirato un pallone In fallo laterale Non ho visto se era Vlasic Intanto ci fanno rivedere il rigore Qua Masina è stato molto Anticipato Intraprendente Ad andare Allora un po' Con le dovute proporzioni Quando Pulisic È andato dritto per dritto Ne ha saltati quattro E anche qui È stata una dinamica simile C'è un rimpallo perso E poi il giocatore Che ne attraversa due o tre E Cialanoglu A un certo punto Qui ce l'ha messo il piede Era in aria di rigore Ha preso il piede Di Masina E quindi rigore Ora attenzione Zerischi Che viene cinturato Dà il vantaggio all'arbitro Perché l'Inter è in avanti Poi il vantaggio non c'è Quindi punizione per l'Inter Sulla tre quarti Qui perso per perso Il giocatore del Torino Che si prende una munizione Perché placca Taremi Quindi punizione E cartellino giallo Vediamo per Chi era il giocatore Che si è aggrappato Ci fanno vedere Un primo piano di Marcenaro Poi adesso arriverà La grafica In aiuto Perché c'è un altro cartellino Ma ormai contano relativamente Eccolo qua Rivediamo l'azione Con Valuchiewicz Che si abbraccia Zerischi Non so se era fallo Ma come non so È una battuta Michele No ho capito Ma qui c'è la tensione C'è la tensione Valuchiewicz Ci voleva portarsi alla casa L'ironia Con questa tensione Non la capisco 15 a 0 Il calcio d'angolo Sommer Rilancio lungo Giocali all'otto Il grande merito dell'Inter È quello di non aver archiviato la pratica È quello che dicevo io prima Ma Michele mi ha stoppato Un po' come È giusto È la cura dei dettagli C'è stato un momento In cui l'Inter 3 a 1 Il Toro tutti indietro E l'Inter giocherellare Dicevo Come contro l'Udinese Con la Caravante Che qui eri un 10 Dal ventesimo del primo tempo Esattamente Ancora Taremi Che recupera un bel pallone Però se l'allunga E quindi a buon gioco Ancora In difesa Il Torino Che riesce a recuperare Questo pallone Ecco il cartellino giallo Era appunto per Valuchiewicz Come vi dicevo prima Era Ilic Che in questo caso È stato bravo A frapporsi Tra l'area di rigore E lo stesso Taremi Che poteva involarsi E qui Taremi Deve far valere La sua freschezza Ma anche Zelischi Così come Dunpris Tutti quelli Che sono entrati dopo 93 minuti Inter che deve Tenere la spina attaccata Lautaro che mette Questo pallone in mezzo Proprio per Taremi Anticipato Ancora Torino Che prova a ripartire Poi c'è Pavard Che in rovesciata Conquista un pallone Frattesi al limite dell'aria Sulla destra Lautaro suggerisce il passaggio Ma Frattesi giustamente La dà Dunpris Per tenere palla Dunpris qui Deve tornare indietro Guadagna un fallo laterale Di solito torna indietro Qui mi devi tornare indietro State speculando Sui secondi Giusto A questo punto della partita Ormai non è che vai A fare a spingere Per poi perdere palla Devi tenere palla Facendola girare E far valere La superiorità numerica Se sei una squadra intelligente Fai questo Taremi Torna indietro Bravo Taremi Ora c'è la no Per Zelisky Zelisky carica il sinistro Poi se la porta sul destro Il tiro di Zelisky La respinta Arriva Taremi No La parata Il miracolo Di Milinkovic Savic Si mette le mani in faccia Taremi si è mangiato Un gol incredibile Tutto solo Doveva solo Con un tapin Metterla sotto la traversa Invece Milinkovic Savic Che prima ha respinto Il tiro di Zelisky E poi ha salvato Miracolosamente Su Taremi Che di piattone Ha cercato la giocata facile Ma ha colpito Proprio in pieno Milinkovic Savic Calcio d'angolo Non mi piace Questo gol sbagliato Non voglio dire Niente Ma bisogna Adesso tenere palla 15 a 0 Calcio d'angolo Per l'Inter Teniamo la palla Non mettiamola in mezzo Ecco bravi Fanno così infatti Ora Dunfris Che rimane sulla bandierina Non la perdere Dunfris E invece riesce a perderla E ora recuperare palla Bravo Bravo No Bravo chi? Punizione per il Torino Punizione per il Torino Incredibile Dover passare Un ultimo minuto E 15 secondi In sofferenza Dopo aver Fatto una partita intera In 11 contro 10 Ma come? Non avete il 99% Mamma mia però Su ogni cosa Scusami 70 minuti più recupero No ma tu parli di cifre Vediamoci quest'ultimo minuto Perché c'è l'ultima palla In the box del Torino Con Milinkovic Savic Che lancia lungo Per Saul Kogu Che prolunga Si apre la difesa dell'Inter E poi Pavaric scivolata Ancora Vlasic C'è il cross per il Torino Che può arrivare da sinistra Arriva C'ha la noglù di testa La mette fuori Qua Dunfris Deve andare in campo aperto Vai Denzel Vai Denzel Che alza la testa E la dà Di Marco Da quest'altra parte Ora l'Inter in contropiede Il Torino che prova a recuperare Le posizioni C'è Lautaro Ah sta giocando Lautaro Ancora Lautaro Che si accentra Se la porta sul destro E il tiro La respinta della difesa Del Torino Anche qua poca lucidità Del capitano Che all'ultimo minuto Tira ma cosa tiri Contropiede del Torino Due contro quattro Ancora il Torino Incredibile Partita Pedersen Torino ancora in partita Ora Pedersen Se non c'incissa Non gli hanno spiegato Che sta sotto Di Linko Vissami Ce le spinge Taremi Di Marco recupera palla Non c'è il portiere Di Marco può provare Quello che ha fatto Colfrosinone Vediamo se lo fa Avanza Di Marco Ultima azione probabilmente Di Marco non tira La dà Taremi Troppo larga Ma l'importante qui È tenere palla Infatti Meno male L'arbitro dice che è finita Finisce qua Incredibile la sofferenza Anche nel minato Mamma mia C'è stata una palla Pericolosa in aria De Vrij ha lasciato scorrere E Pavari scivolata In mezzo a due Che stavano arrivando Salva tutto Incredibile Qua la spina Si attacca e si stacca Si attacca e si stacca Natale è lontano Ragazzi Dobbiamo tenerla Fissa Con la scritta On La cosa buona Che la partita è finita E come a Ubi È finita 3-2 per l'Inter Secondo 3-2 Consecutivo per l'Inter Vittoria importante Vittoria preziosa In termini di classifica Vittoria che però Naturalmente merita poi Di essere analizzata Dovere Perché se uno guarda Il risultato finale Non penserebbe mai Che l'Inter È rimasta 11 contro 10 Per 70 minuti Su 90 Con un toro Che ci ha provato Fino in fondo Toro che peraltro Deve fare i conti Con l'infortunio Sembra Speriamo di no Ma sembra Molto molto serio Di Duvan Zapata Eccoci qui Allora missione compiuta Per l'Inter Ma che fatica La tripletta di Marcus Turam Regala tre punti Importanti all'Inter Però il clima Tra gli interisti Non è così positivo Vero Thomas Perché Insomma Dopo 20 minuti Il toro ti fa questo regalo Restando in 10 Per l'espulsione Veramente folle Di Maripan Tu vai avanti 1 a 0 Vai avanti 2 a 0 E poi prendi il 2 a 1 Vai avanti 3 a 1 Poi prendi il 3 a 2 Cioè non riesci a chiuderla E rischi il 3 a 3 E rischi il 3 a 3 Pur avendo giocato Sostanzialmente I due tempi Nell'area di rigore del toro Ma è quello che ti dicevo Anche con l'Udinese Cioè tu sei in vantaggio 3 a 1 Prendi un gol in contropiede Finisce 3 a 2 E rischi poi Nel finale Quindi è un Inter Che non sa gestire Perché tu non puoi 3 a 1 in 10 Non puoi Non puoi fare una cosa del genere 70 minuti 70 minuti Poi prendi un gol Anche su un errore Adesso lì stiamo rivedendo Insieme a Michele La palla viene Viene mandata fuori Dall'area di testa Di Acerbi E 3 dell'Inter Non riescono a fermare uno Che arriva in corso La palla va più vicina A un giocatore del Torino Ho capito Michele Ma lì è mancanza di concentrazione Ho capito Ma tu che ne sai Acerbi Dove spazza Spazza in una zona Dove il giocatore del Torino In vantaggio Sia su Taremi che su Frattesi Ma sono 3 dell'Inter Quindi arriva Frattesi Masino è bravo Che abbassa la testa E va subito in area Ci sono Aspetta Poi ci sono Cialanoglu e Pavard Due contro uno Il primo è Cialanoglu Che lo affronta Cercando di prendere la palla Invece gli prende il piede Cioè lì non è messa male La difesa Però prende il piede Però prendi due gol Però prendi due gol Non deve succedere E sei d'accordo adesso con me Che ne parlavamo Settimana scorsa insieme Che non è un'Inter tonica Non è un'Inter attenta Concordo Non è un'Inter attenta A me la sensazione Che mi arriva è questa Ma te l'ho detto Già domenica Che eravamo qui insieme Con l'Udinese Però ci sono In queste stagioni infinite Per forza Dei momenti In cui tu hai la condizione Dove sei brillantissimo E dei momenti Io parlo di quello che vedo Questo è un momento In cui ci sono degli elementi Tipo Lautaro In questa stagione No Con l'Atalanta hai fatto un partitone A Manchester hai fatto un partitone Ok Allora Le partite brutte sono state Col Monza E col Milan Poi A Udinese A Udinese Ha avuto le disattenzioni Ma la prestazione l'hai fatta Come l'hai fatta a Genova Oggi è stata una partita Molta anomala Perché hai fatto uno sport Che è diverso La superiorità Contra una difesa bloccata Io vedo l'Inter dell'anno scorso E vedo questa Inter qua Non posso pensare Dove poi è cambiato No ma è la poca cura dei particolari Io prima facevo questa analisi 3 a 1 Il Toro dietro Non ha più nulla da chiedere E tu sei lì Che giocherelli Questa è una partita Che tu devi chiudere Perché non sai mai cosa succede E nel finale ce l'ho dimostrato Bravo All'ultimo potevi fare il 3 a 3 Perché se quello lì Lì non liscia il pallone Quello la mette dentro E fai il 3 a 3 E poi cosa stiamo qua a dire E un Inter Cosa stiamo qua a dire E un Inter Meno elettrica Meno veloce E molle E molle Lenta Lenta nella manovra E soprattutto meno killer Però è deconcentrata L'anno scorso partite così L'Inter le chiudeva nel primo tempo Ragazzi oggi Le chiudeva nel primo tempo Oggi anche Un paio di gol Sbagliati clamorosi Perché noi diciamo Sempre la difesa Che poi la difesa Ripeto Secondo me ha sbagliato Nettamente Il posizionamento Del primo gol Il secondo invece È un episodio casuale Invece il problema Anche quando hai le occasioni Devi segnare Come l'episodio casuale Tipo Taremi il 4 a 2 È un misto delle due cose È un misto di rigore È entrato Perché è entrato così C'è la Novolo Come cosa vuol dire Il secondo gol casuale Nel senso che Una palla buttata fuori Quello che si inserisce in aria Non è piazzata male Ho capito Ma non è che Bu non passa per strada A buttare la palla fuori Lì c'è tutta l'organizzazione No c'è via Buttare la palla fuori Ma ci stanno Secondo me Il vero problema In questo momento Dell'Inter Poi vinci Porti a casa il risultato Fa classifica E che Entrambe le fasi Sia quella difensiva Sia offensiva Non sono brillanti Non sono toniche Non sono veloci Non sono rapide Con i due gol di oggi Sono al passivo 9 9 9 in 7 partite 9 in 7 partite Sono presi 22 in tutto l'anno L'anno scorso 22 in tutto l'anno Alla settima erano 3 Poi all'ottava Ci fu i due Col Bologna Però stiamo parlando dell'ottava Però Alla settima erano 3 Vuol dire che ne hai presi 3 volte tanto Rispetto all'anno scorso La Juventus ha preso 0 gol Fino adesso in campionato Sì sì Tra l'altro Visto che si dice spesso Che i campionati Si vincono con le difese Vincere ha fatto 7 gol In più della Juve Finora Sì però I campionati ribadisco Si vincono più Con le difese Che con gli attacchi Quindi il fatto che tu Avvi preso 9 gol in 7 partite Non tanti Contro i 22 dell'anno scorso Vuol dire che La metà già quasi Eh sì Sono tantissimi Sì però voglio dire C'è oggi Un terzo Un terzo di quelli Che hai preso In tutto l'anno scorso Ma siamo alla settima Però io dico Questo Torino In 10 Sarà stato anche Più debole Rispetto Alla Stella Rossa In 11 Cioè È chiaro no? E con la Stella Rossa Hai fatto 4 a 0 E ti sei allenato Qui hai rischiato Di perdere È una questione Secondo me Hai rischiato di perdere ragazzi No 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 Hai rischiato di Pareggiare Contro Contro Il Torino E perché dopo il caccio Sono episodi Michele Devi stare molto calmo Sai Perché tu ti sei rischiato Di perdere No Se pari in gira Hai persa Sei d'accordo Sì o no Hai preso 2 gol In 10 A San Siro Io credo che vedendo I numeri della partita Fai il professore No vedendo i numeri Della partita Ci sono più di un gol Di scarto Sì Michele Di scarto Però Il gol di scarto È uno solo E giocavi In 11 contro 10 E allora Il gol di scarto È uno solo A favore dell'Inter Se vuoi parlare E' risultatista È finita 3 a 2 Ma continua così Come dobbiamo fare Come i bambini È finita 3 a 2 Oh guarda che qui Non è che siamo a I numeri Le statistiche Aiutano a capire Un pochino di più Dell'andamento Che aiutano Poi noi l'abbiamo visto L'abbiamo capitata Eh abbiamo visto Che il Torino Si è trovato sul 3 a 2 Per un episodio casuale Come casuale Il calcio è evitabile È casuale È tutto casuale Ma questo è sovato Il concetto di casualità Di chi però Anche il terzo gol di Turano È stato casuale Ma se uno fa 14 calci d'angoli Sai solamente tu le cose Ma se uno fa 14 Cosa vuol dire casuale Se fai un rigore in quel modo Che se uno fa 14 calci d'angoli a 0 E 80% di processo palla Ma cosa me ne frega di 14 È casuale se prende 4 toni Che ogni 3 calci d'angoli Calcio di rigore Non può segnare senza tirare in porta Ma non è che sei all'oratorio Ma se uno non tira in porta Non segna Però hai giocato 70 minuti In superiorità numerica Esatto Questo dato è il fatto Hai giocato 70 minuti Più recupero del primo E del secondo tempo Di non aver chiuso la partita Con l'uomo in più Ma la causa Della non chiusura Della partita E l'Inter È quella che dicevo prima Qual è? Quando tu sei sul 3 a 1 E hai la cura del dettaglio Devi gestire E poi hai Devi anche avere benzina Alle gambe Quando sei sul 2 a 0 Esatto Ragazzi ve le ricordate Le parole di Milico Milicović-Savic non ci sono state Sommer non ha fatto una parata Tutta la partita Milicović-Savic ha fatto una parata Allora Ma non è l'immacolata concezione Mickey ribadiamo però che In 11 contro 10 In 11 contro 10 Insoddisfatta Sei felice per i 3 punti Deve sapere che deve lavorare ancora Su queste amnesie difensive Che diventano La possiamo girare come ti pare Però di qualità di tutto A parte il risultato I 3 punti Credo che ci sia Strameritati 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 D'accordo Nessuno dice il contrario Perché comunque l'Inter ha dominato Però se tu pensi di aver fatto 70 minuti in 11 contro 10 in casa con il Torino Non puoi arrivare al 95esimo che fai l'occasione del Torino Io credo che da questo punto di vista le perplessità ci siano e vadano rimarcate Dopodiché uno può dire Io sono risultatista Ho fatto 3 punti Sono contento così Però sapete cosa manca secondo me a mio avviso di questa Inter Adesso parliamo delle 6 partite che abbiamo visto di campionato La qualità a livello individuale Perché non è che manca il gioco di squadra Ma la differenza che faceva forte l'Inter a mio avviso Michele Era proprio il fatto che tu avevi la qualità forte dal punto di vista individuale Esatto lo scambio veloce Però in quanti prendevano palla Prendevano e facevano anche l'azione personale Continuavo a dire No Michetariano non sta giocando da Michetariano Concordo Ma anche ce l'hanno Cioè io le partite ragazzi le vedo Cioè a Michetariano non è più lo stesso giocatore dell'anno scorso Anche un'età Michetariano Non è un ragazzo Ho capito Michele Ma rallenta Cioè io non lo vedo bene Non lo so Forse magari sono io che vedo le partite in maniera diversa Per l'amor di Dio Però io do il mio giudizio per quello che vedo nel campo Non vedo questa Inter affamata Sembra una squadra come per dire bene Io ho vinto il campionato All'anno scorso Su questo sfondi una porta aperta Sul fatto di non avere quella Certo Cioè tu sei 3 a 1 Per questo io dicevo a un certo punto il primo tempo Quella cosa di non devi lasciare le speranze Si chiama ammazzare le partite Quando hai il pallino in mano non devi lasciarla aperta E' questo che sono d'accordo Eh Michele Però Michele Però Michele 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 Mi chiede l'anno scorso ha fatto due gol La sua efficacia non sono i gol No ma l'efficacia non si estrinseca solamente nel gol L'efficacia è nella mole di lavoro Nella produzione al centro Nella mole oggi è stata ampia È stata ampia Ma Lautaro oggi nel secondo tempo a due occasioni L'anno scorso quelli fatti fa due gol Oggi tira una volta alta e l'altra a loro Intanto facciamo gli up and down Michi Partendo da te ovviamente Chi sale e chi scende dell'Inter di questa sera Allora più o meno anzi Sono quelli del primo tempo gli up Cioè Turam sicuramente il migliore in campo Meno de match Ha fatto anche il gol Tripletta La tripletta Quindi saliamo anche all'otto e mezzo Perché è una tripletta pesantissima E anche perché sta facendo quello che l'anno scorso Tutti gli hanno detto di fare Cioè di lavorare Cioè sul fatto di essere più cinico Lo sta facendo Quindi un bel otto e mezzo per Turam Che se lo merita Uomo del match Gli altri due Bastoni e Di Marco Sette di nuovo a tutti e due Di Marco l'abbiamo visto al tiro Al cross più volte Bastoni ha fatto anche l'assist Un assist del gol E quello che è andato a mettere palloni interessanti Spesso l'Inter pendeva a sinistra Mi sono piaciuti tutti e due Quindi sette a Bastoni e sette a Di Marco Poi per quanto riguarda Per quanto riguarda i down Qua ce ne sono tanti Allora Vedi che sei dubbioso Vedi che No no nel senso dell'ordine Allora il primo resta a Bissec Perché abbiamo detto primo tempo E gliel'abbiamo calato a quattro e mezzo Il voto Quattro e mezzo per Bissec Ancora un'amnesia Che diciamo un po' L'immagine Non è solo lui Perché Pavara ha sbagliato all'inizio del campionato A volte ha sbagliato De Vrij A volte ha sbagliato l'uno L'altro Bissec è quello che più volte è entrato In queste amnesie Questa è la quarta volta Se non sbaglio Genoa Udine Udine e oggi Quindi quattro e mezzo per lui Poi c'è Qua Lautaro Lautaro Il 5 è pieno E sono anche diciamo abbastanza buono Perché la partita si è vinta Però il 5 Che aggiungo generoso Perché Non ha fatto quasi niente Il secondo tempo Ha avuto le occasioni Ma le ha sbagliate Nel primo non l'ha proprio toccata Sai una partita vinta Quattro Magari se finisce tre a tre Gli do anche quattro Però gli do cinque Vabbè cinque Un cinque io lo darei anche a Taremi Perché è entrato fresco E ha sbagliato E ha due gol Dai E devi chiudere le partite Se hai un attaccante di razza Mi chiudi le partite No Taremi sì Allora però Io Taremi però Thomas lui ha fatto pochi minuti E si è mangiato un gol Siamo d'accordo Però tu non trovi qualcun altro Nelle amnesie Allora Cerbi no Perché più o meno ha chiuso Bissec Pavar ne ha anche Sì in effetti Un altro difensore non c'è Sul centrocampo Frattesi c'ha la Noglu Almeno la sufficienza la prendono E quindi ci sta Diciamo che sbagliare il tapin Col portiere ce ne vuole tanto Non ti aveva fatto molto arrabbiare Dunfris alla fine Eh perché Però è vero che Taremi Si è mangiato un gol Dai Dunfris Taremi Due subentrati Vabbè ma Dunfris Alla fine perché dici Su 3-2 No Dunfris E che si piglia Che fa quel fallo Tu hai detto che aveva sbagliato Alla fine Alla fine ti ha fatto arrabbiare Perché non ha tenuto quel pallone Ah che non ha tenuto il pallone Vero Sì Ma scusate Dai va bene Diamo allora a Taremi Il 5 e mezzo Perché si è mangiato il 4-2 Che ci avrebbe evitato le sofferenze Anche se i movimenti Erano quelli giusti Non è da lui eh Scusa Ma vogliamo parlare del signor Inzaghi O no? Signor Inzaghi è lui Signor Inzaghi Per la cattiveria dici? Eh Michele Non è una partita Che non va Gestita così Partendo dai 70 minuti 11 contro 10 Dovevano segnare Furio Dovevano segnare Gestita male Hanno tenuto la palla Dovevano essere più rapidi E segnare Non è che Inzaghi gli ha detto Andate piano Non segnate No eh Michele Non farmi sempre questi paragoni È chiaro che non è che Inzaghi Dice e fargli fare esattamente Il contrario Di quello che devono fare Però non tiene in mano la partita Quando vedi che ci sono delle amnesie Devi intervenire Devi cercare di ricompattare Se è andato alla fine del primo tempo Nello spogliatoio E l'Inter E qualcosa è servito Però non puoi Non puoi prendere Ripeto Due gol 11 contro 10 A San Siro In una partita ufficiale Di campionato E presi Contro il Torino Con tutto rispetto Parlando per il Torino Se è fatto male Darmi Andunfri Se lo devi fare Perché uno è fresco Gli ultimi due Possiamo discutere Zelisky Mkhitaryan Però anche Ci sta Se vai su Mkhitaryan E su Frattesa E devrai bastoni Secondo me sì Perché bastoni È uno che spende tanto Che va sempre in avanti E lo preservi Perché Ma sono i cambi Canonici Però c'è fatto caso Michele Che quando esce Quando esce bastoni L'Inter rischia sempre Di prendere gol Quando esce bastoni Rischi sempre Di prendere gol Sempre Però bastoni È un baluardo Della difesa Però non è un baluardo Cioè lui fa l'attaccante Franco Cioè lui fa Il centrocampista giunto Cioè non è che Dietro tu dici Oltre ad essere un baluardo Uno che aiuta In avanti Sì ma dietro Non c'è quasi mai Perché quando l'Inter attacca Come oggi Secondo me La cosa negativa In questo frangente Dell'Inter Sono le due fasi Che non sono Particolarmente attente Veloci Non sono cattive L'anno scorso Se non è qualche amnesia L'amnesia di troppo dietro In una partita del genere Ne rifilava 5 o 6 Al torri In 10 Io figurano I gol Finora ci sono 7 giornate 16 gol I gol ci sono Ci sono invece purtroppo I 9 gol subiti E lì L'amnesia difensiva E questo significa Che le due fasi Non funzionano in sincronia Altrimenti In Champions League 5 gol fatti E 0 subiti 4 gol fatti 4 gol fatti Scusa 4 gol fatti E 0 subiti Cioè Sono due squadre Completamente differenti Perché comunque La Champions Anche con la Stella Rossa Due volte Maximovic È andato al tiro Solo in aria Poi il livello Non era altissimo Della Stella Rossa Queste amnesie difensive Sono la costante Il Torino Il Torino Era molto più debole Sulla carta Sulla carta Sì Sulla carta della Stella Rossa Perché giochi in dieci A San Siro Anche se con la Stella Rossa Hanno creato due palle gol Ho capito Finita 4 a 0 Scusate Senza andare a guardare La partita di Champions Ma analizziamo Il Torino in dieci Con l'Udinese Dell'altra settimana Dove comunque Ne hai presi Come due Hai preso due gol E dove forse Hai rischiato di più Della partita Che abbiamo appena analizzato Quindi più che sto fermarmi Sulla Stella Rossa Sì esatto Ma forse era ancora più grave La realtà Rispetto all'anno scorso Che l'Inter Aveva una difesa ferrea E non prendeva Quasi mai gol Aveva una linea Maginò A centrocampo Che era creativa Che mandava in gol Ovviamente gli avanti Ed era cattiva Spietata là davanti E veloce Lascia stare oggi Oggi In dieci Non puoi prendere due gole Ma anche con l'Udinese Ne parlavamo Esatto 3 a 1 Tu devi gestire la palla Non puoi prendere un gol In contropiede Come l'hai preso Come l'hai preso Quindi vuol dire Che manca qualcosa Mentalmente Sì sì è quello Non sei a fare La concentrazione La cura dei dettagli Esatto La cura dei dettagli È la quarta volta Quest'anno Che prendi due gol Certo Perché poi Come diceva Fulio Hai fatto due Cliccitte in Champions Due in campionato Però quando prendi i gol Prendi due alla volta E' sempre con distrazioni Quando la partita Sembra essere Dalla tua parte Esatto Col Geno Ne hai presi due Avere una difesa Che non sia così sigillata E facilmente perforabile Alla lunga Può diventare Un problema Ci sono Ehm Ehm Ehm